Questa volta non è una fake news, nel cimitero di Rosciano ci sono stati atti vandalici. Sì, ieri ci è stato segnalato che mancavano dei fiori che avevamo messo di recente nella tomba di mio padre e mia madre e quando ci siamo venuti a vedere abbiamo constatato che non solo mancavano i fiori ma addirittura c'era la foto danneggiata, rotta praticamente che adesso siamo costretti a cambiare perché comunque è rotta praticamente. E noi pensiamo che queste cose stiano peggiorando perché prima sì, erano successe che magari avevano rubato dei fiori, invece adesso sta degenerando perché sono arrivati a romperci addirittura la foto. Con atti di vandalismo, avete segnalato la cosa? Sì, ai carabinieri e ai vigili, però loro hanno detto sentite il cimitero e poi loro prenderanno, sì, i servizi cimiteriali. Sono a corrente loro di queste cose? Sì, l'abbiamo segnalato stamattina e ha detto che non so cosa faranno. È capitato altre volte qui nel cimitero? No, atti di vandalismo così no, però dei fiori sì, spesso, capita spesso. Allo sconcerto si aggiunge anche lo sconforto che si legge negli occhi di chi ha subito questo affronto nel non comprendere le motivazioni che animano le mani dei vandali. Il cimitero di Rosciano è stato la settimana scorsa al centro di una falsa notizia su uno scempio avvenuto sia a Rosciano ma non di Fano, bensì in provincia di Pescara in Abruzzo. Ma la notizia comunque è rimbalzata sul web in alcuni posti locali, ma si è capito subito dopo una veloce verifica che c'era qualcosa che non andava. Comunque una cosa fuori posto il cimitero di Rosciano ce l'ha. I suoi frequentatori stamattina attirano la nostra attenzione su di una telecamera che è stata messa a sorveglianza di un'area all'aperto che penzola appesa pericolosamente ad un cavo elettrico in balia degli agenti atmosferici, ci dicono i presenti sin dall'era Aguzzi, assessore Silvestri. Possibile che anche nei recenti lavori nessuno si sia accorto di questa pericolosa banderuola che nel fortunato caso in cui funzionasse avrebbe una sola inquadratura?